Quest'anno l'attività di controllo sarà mirata soprattutto a prevenire le possibili violazioni delle misure di contenimento della pandemia. Sarà un capodanno sicuramente diverso. Il 2020 si chiude con l'intera Italia in zona rossa e così sarà una notte di San Silvestro blindata. Sono infatti scattati maxi controlli da parte delle forze dell'ordine. Noi continueremo comunque a svolgere il nostro normale servizio di prevenzione e controllo del territorio. Quest'anno con un'attenzione in più dovuta alle limitazioni che ci sono già da qualche giorno sulla circolazione. Non dimentichiamo che da oggi siamo ritornati in zona rossa e quindi con delle limitazioni ancora più stringenti rispetto ai giorni scorsi. Che questa notte avremo un coprifuoco più lungo perché inizia alle 22 ma termina alle 7 di domani mattina. E quindi per interrompere questa catena di contagi anche le forze di polizia come titolari di una potestà di controllo dovranno esercitare in maniera ancora più stringente il loro ruolo. Monitoraggi dunque mirati ed intensificati su strada. Quest'anno è cambiato totalmente il nostro capodanno dove si verificavano assembramenti, quindi noi si doveva verificare che non ci fossero persone ubriache o non ci fossero situazioni particolari o di pericolo. Quest'anno si deve verificare che le persone rimangono nelle proprie abitazioni senza che ci siano spostamenti da casa a casa diciamo, non autorizzati. I controlli saranno soprattutto sulle arterie stradali, sui centri cittadini per verificare il rispetto della normativa e sicuramente si terrà conto quindi del coprifuoco e delle altre misure che sono volte al contenimento della pandemia. Anche noi speriamo veramente nel buon senso degli italiani e sappiamo che non sono norme da rispettare, tutti vorremmo stare con i nostri cari, quindi è un po' un sacrificio, non è così facile forse non passare questa notte così significativa. Insomma ci auguriamo che il buon senso faccia da padrone in questa notte e quindi non ci siano poi grandi problemi. I controlli quest'anno per contenere i contagi da Covid-19 si concentreranno però non solo sugli spostamenti vietati ma anche a caccia di feste clandestine. Nessuno vuole entrare in casa degli italiani e nella fattispecie degli aretini quindi molto è lasciato al senso di responsabilità però è ovvio che le forze di polizia dovranno vigilare. Dovranno vigilare. Credo che questo sia un interesse di tutti, sia un interesse dell'intera collettività nazionale e la salute pubblica che è in gioco. Quindi credo che da questo punto di vista tutti noi forze di polizia e cittadini dobbiamo collaborare perché si possa, come dicevo prima, interrompere la catena di contagio e fare in modo che questa campagna vaccinale che è iniziata da qualche giorno possa svolgersi nelle condizioni migliori. Controlli infine anche per verificare il rispetto delle normative antibotti e fuochi d'artificio. I botti sono regolamentati dal regolamento di polizia urbana nei 365 giorni all'anno con una sanzione di 100 euro. Quindi non si possono fare botti sul suolo pubblico, su area pubblica o in condizioni in cui ci sia una condizione di pericolo. Quest'anno il divieto è stato rafforzato anche da un'ordinanza emanata dal sindaco in quale invieta nell'intero territorio comunale l'uso dei botti.